Adesso abbiamo sparato subito tutte le pause imprevedibili e adesso c'è una pausa da prevedere, cioè un cambio chitarra Se qualcuno tenga d'occhio il capotasto, sempre sappia dov'è La prossima canzone si chiama Maggio è una canzone che ho scritto diversi anni fa era un periodo molto diverso da questo Era un periodo in cui c'era la guerra in Iraq e quindi si bombardava nel deserto e questo succedeva tempo fa, adesso non succede più da tanto tempo Io mi trovavo in giro su una strada, c'erano i papaveri a Maggio c'era il grano, i papaveri e intanto sentivo la radio, mentre dovevo stare bene per quello che vedevo sentivo la radio appunto, queste notizie stavano bombardando nel deserto che è un po' come dire che piove sempre sul bagnato e perché faccio ancora questa canzone? forse perché ci bombardano ancora, forse sembra un po' come una costante Marcello oggi mi pesa come il coperchio sigillato sul ramento La pressione di un'attualità di chiongo Una morte che ci spara e noi ci spingiamo verso il fondo Un fermo incantato dal futuro impicchiato Come il volo del mio sasco Oh ma è per essere un bel giorno Il mar rosso dei papaveri hanno a spalle sopra il grano Le nuvi all'oliponte Mi portano lontano E non so proprio cosa c'è tutto questo Con la rabbia delle mani Come il colore che lo si indossi Con il peccato che fa questo incerno di gente Chiuso in casa da sentire la forza potente Mentre il mondo resta la fuori Tra le strade grande immensa Dove le anime si incontrano anche i fili indipendenti Si è un mare di papaveri Una spanna sopra il grano Le ultime mani Ma il cielo ci ripesa come il tuo tetto sigillato sul rappello La pressione di un'attualità di chiongo Con di una morte che ci spara Noi ci spingiamo verso il fondo E' infermo incantato da un futuro inviato Come il volo del mio sasco De un mio sasco